È dal 2018 che si è avviato lungo la Val Sugana uno studio per valutare le misure da intraprendere per cercare di arginare tanti, troppi incidenti stradali, anche con esito mortale, che si verificano puntualmente lungo una delle arterie più trafficate del territorio che collega Padovano al Trentino. Troppo spesso al centro delle cronache, ormai una cadenza impressionante, l'ultimo episodio in questo 25 gennaio con la morte del conducente dello scuolabus che si è scontrato contro un autobus di linea lungo la SS 47 Val Sugana, tra Tezze e Cittadella. Solo lo scorso 15 novembre, Suor Fernanda Maria Ferraro era stata travolta e uccisera un tir in pieno centro a Rosà, ancora una volta lungo la SS Val Sugana. E questi sono solo gli ultimi due decessi accaduti su un'arteria definita da molti strada killer, dove i rettilinei invitano a schiacciare il piede sull'acceleratore, nonostante i limiti di velocità, i numerosi autovelox che vengono installati di volta in volta, che però a poco servono. Chi quotidianamente percorre la 47 Val Sugana è preoccupato. E le assicuro che se non sei svelto e veloce a venire fuori, insomma, rischio di sempre alto. Val Sugana è osservata speciale tra Veneto e Trentino, purtroppo però la lista dei morti lungo questa strada sembra non voglia fermarsi.